Quando parliamo di sport spesso ci lasciamo andare anche in considerazioni un po' facilone, diciamola tutta, in fondo è un gioco, è un gioco ma fino a un certo punto, quando lo sport si fa sul serio e poi diventa anche dalla possibilità di passare alla storia. Non parliamo solo di prestazioni sportive ma di gesti che hanno cambiato la storia dello sport ma non solo dello sport e che alcune volte, anzi spesso, può finire anche in tragedia per chi compie una scelta che ha sempre un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare, storia di donne e uomini ribelli quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili è il titolo del libro di Stefano Tamburini che è il nostro ospite della settimana qui con noi in studio. Ben trovato direttore. Buonasera, grazie. È un piacere averla con noi anche perché ho letto il libro che ha la prefazione tra l'altro di Rosi Bindi, la quale, molto interessante, parla di come lo sport si intrecci anche a volte con la malavita organizzata. Mi ha colpito questo riferimento perché ovviamente Rosi Bindi viene dalla presidenza della commissione antimafia. Intanto, domanda banalissima, come ha fatto avere la prefazione di Rosi Bindi? Che autorevole, insomma. Rosi Bindi la conosco da quando era presidente della commissione antimafia. mi occupai del lavoro che fecero proprio nel campo delle infiltrazioni nello sport, che fu un lavoro abbastanza trascurato. Uscì un'anticipazione di una cartella e mezzo un po' su tutti i giornali, poi in realtà la relazione era molto più approfondita. Io la contattai per avere qualcosa in più rispetto a questa cosa e venne fuori tutto un mondo. Io scrissi un'inchiesta di un paginone intero, un doppio paginone, sui giornali quotidiani locali dell'allora Gruppo Espresso per i quali lavoravo all'epoca. Poi l'ho ritrovata durante lo scandalo Cheu quando ero direttore del Tirreno. Lei era l'unica voce critica all'interno del PD che disse che di fronte a tutte quelle cose non si poteva stare in silenzio. Si è instaurato un rapporto. Per cui quando ho scritto questo libro ho pensato che per la prefazione, siccome c'è il rischio che si pensi che sia un libro che parla di sport. Lo sport sta sullo sfondo, in realtà si parla di diritti. La sua figura poteva essere quella più adatta per poter fare un'introduzione diversa da quella dell'autore. L'ha fatta molto volentieri e credo abbia fatto anche un buon lavoro. Cita un termine, sport washing. Lo sport washing è il primo dei problemi e quello con il quale stiamo facendo pesantemente i conti. I mondiali del Qatar, i gran premi di Formula 1 e del moto mondiale che si svolgono nel quadrilatero della vergogna. Qatar, Emirati Arabi, Bahrain e Arabia Saudita ci stanno riempiendo di soldi, ci stanno colonizzando al contrario. Invece di venire da noi con quello che per loro è una monetina ci comprano per farci andare da loro a portare queste manifestazioni che in qualche modo ripuliscono le coscienze. Non ci dimentichiamo che ci sono stati 6.500 morti per costruire stadi e infrastrutture in Qatar. Siamo andati lì senza colpo ferire. Prima di questo triste record ce l'avevamo noi con i mondiali d'Italia 90, ci furono 24 morti e già sembravano un'enormità. Pensiamo a 6.500 persone che essenzialmente erano ridotte in stato di schiavitù. Dormivano in quelle che io ho chiamato anche nel libro le capanne dello zio Tom, perché praticamente questi avevano la possibilità di vivere dentro semi container arruventati per stipendi che corrispondono ai nostri 300 euro al mese. Lavoravano 12 ore al giorno, il loro passaporto era sequestrato dal datore di lavoro, per cui non potevano assolutamente andarsene se non a fine della campagna. Chi si sentiva male doveva andare a lavorare lo stesso, altrimenti perdeva lo stipendio. Noi abbiamo accettato di organizzare delle manifestazioni internazionali in teatri così drammatici, facendo finta, voltandoci dall'altra parte, addirittura impedendo anche un po' di protesta. La Federazione Internazionale del Calcio ha praticamente detto che ogni calciatore che metteva una fascia da capitano con i colori dell'arcobaleno, per sottolineare la differenza di trattamento, fra i generi, fra sesso e razze, sarebbe stato punito con un'ammunizione. E poi la famosa foto della Germania nella prima partita del Girone con la palla da bocca. Esatto, è stata l'unica protesta che si è potuta fare. Invece abbiamo visto nel libro, si racconta, che una delle mosse più importanti che furono fatte all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, contro l'apartheid in Sudafrica, fu quella del boicottaggio economico, certamente, ma il boicottaggio sportivo. Non partecipavano alle Olimpiadi, non partecipavano a nessuna manifestazione internazionale. Cioè, lo sport fu uno strumento che fece da argine contro questo mondo diverso e alla fine si sono dovuti inchinare. Per tornare nella comunità sportiva internazionale, hanno dovuto aprire le loro squadre anche agli atleti. Nel frattempo, ovviamente, avevano liberato Nelson Mandela, era stato fatto un referendum che metteva fine a quella che per loro era una legge e che quindi metteva quello Stato al di fuori dalla comunità internazionale. Questo è un caso in cui la politica, evidentemente, si intreccia allo sport. Ce ne sono tanti altri, le storie sono 30. Vi consiglio, evidentemente, stasera ne potremo toccare solo qualcuna per questioni di tempo, ma la lettura è iper consigliata a voi che ci ascoltate perché davvero meritano tutte. Ne abbiamo però prese alcune che ci aiutano a focalizzarci ancora meglio. Massimiliano Mugnaini. Ci sono storie che vanno oltre lo sport, capaci di segnare il tempo che hanno attraversato con le loro esistenze e diventare un mito da tramandare ai posteri. Non sempre sono agli atofine, anzi, spesso le scelte sono dolorose per il prezzo da pagare. Bruno Neri, calciatore di Fiorentina, Livorno e Lucchese, promessa del calcio italiano negli anni in cui Pozzo costruiva la nazionale dei record. Siamo nell'Italia fascista e nella formazione dei mondiali vinti ci sarebbe stato di diritto anche lui, ma all'inaugurazione dello Stadio Bertha di Firenze, oggi il Franchi, non fece il saluto romano. Tanto bastò per chiudere con la maglia azzurra. Non è un caso che la sua vita termini sulle montagne della linea gotica da partigiano. Non solo gli ideali, c'è anche l'amore tra le scelte che possono valere la vita. È il caso dello stopper ungherese Sandor, stella della nazionale di calcio che negli anni 50 contendeva il mondiale alle big del mondo. In Ungheria c'era il regime comunista e il suo amore clandestino con la bellissima cantante Kovac non passò inosservato. Tentarono assieme una fuga in Italia, ma la polizia segreta li fermò al confine Jugoslavo. Lui venne impiccato, lei imprigionata. L'esito del loro rapporto si venne a sapere solo dopo la caduta del muro di Berlino. Le donne hanno scritto capitoli importanti di questo almanacco speciale, come Alfonsina Strada, prima ciclista a partecipare al Giro d'Italia tra i maschi in un paese bigotto e reazionario, quello del ventennio. Oppure Ondina Villa, campionessa d'atletica che si mise contro addirittura Papa un Pio undicesimo. Le costò la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 32. Quattro anni più tardi a Berlino ci sarà inanellando medaglie e record che la consegnarono alla leggenda. Leggenda che ammanta le Olimpiadi di Città del Messico del 68, quelle della contestazione passata alla storia per la finale dei 200 metri. L'immagine che rimane è quel podio con Smith e Carlos, rispettivamente primo e terzo scalzi e con il guanto nero della protesta degli afroamericani. Non molti forse ricordano il secondo classificato. Si chiamava Peter Norman, australiano, un bianco tra i neri. Apparentemente quella era una storia che non gli apparteneva, ma lui non volle voltarsi dall'altra parte. La stampa del suo paese lo attaccò, persino quando i giochi arrivarono a Sidney nel 2000 verrà dimenticato dal cerimoniale. Ci penseranno gli Stati Uniti ad omaggiarlo di un invito. Beh, ripartiamo dalla copertina, perché è da questa storia, quella del famoso podio di Città del Messico. Insomma, è passata la storia anche della lotta afroamericana, ma forse molti dimenticano che quell'immagine è costata carissima ai due. Smith e Carlos che furono cacciati, lo racconta bene insomma nel libro Stefano Tamburini, cacciati dal villaggio olimpico, sono finiti a fare uno scaricatore di porto e diciamo un altro parcheggiatore. Mentre per l'australiano non è che sia andata poi troppo meglio, non è che aveva fatto niente di che, ma non si era, come dire, disinteressato alla causa. Anzi, le racconte, questo è affascinante, che nel tunnel prima di arrivare al podio, siccome uno dei due aveva dimenticato i guanti, consigliò, e questo è un bel retroscena, di portare un guanto a testa e da lì quell'immagine lì, solo che poi ne pagò le conseguenze. Ne pagò le conseguenze perché lui andò sul podio con una coccarda del movimento per i diritti umani degli afroamericani. Non sarebbe successo niente se fosse andato sul podio e fosse rimasto lì ad assistere. Lui volle partecipare con quella coccarda e Tommy Smith, il primo classificato, poi ha raccontato successivamente che vide, disse testualmente, vide amore nei suoi occhi, cioè vide una partecipazione sincera. E poi loro sono stati quelli che l'hanno tirato fuori dai guai perché in Australia è stato perseguitato, messo ai margini. Alle Olimpiadi successive aveva il minimo per partecipare, aveva vinto le selezioni, non fu convocato e è morto praticamente senza ricevere delle scuse che sono arrivate postume. Il Parlamento australiano ha fatto una mozione approvata all'unanimità dove hanno chiesto pubblicamente scusa per il comportamento. Alle Olimpiadi di Sydney non fu invitato, lo invitarono gli Stati Uniti. Lo portarono e quando si presentò lì fu accolto da un'ovazione e gli strinzero tutti la mano perché riconobbero un gesto che non era dovuto e che in qualche modo aveva allargato il fronte. Quando è morto hanno aspettato una settimana a fare il funerale in modo che Smith e Carlos potessero andare e la barra l'hanno portata a spalla e gli altri due del podio. È una storia che si è scoperta dopo grazie all'impegno dei parenti che hanno cercato di tirarla fuori. Era una delle tante storie finite all'oblio, ma ce ne sono anche altre in quel libro. Le abbiamo scoperte molte delle cose più brutte accadute al di là del muro di Berlino, sono state scoperte dopo la caduta del muro. Lei cita più volte La vita degli altri, che è un film meraviglioso, ha vinto anche degli Oscar come film straniero, lo ricordiamo tutti. Ci parla della Stasi e del Palazzo dei Milleocchi in sostanza. Qui invece si dice che non è solo la Stasi, non è solo la Germania dell'Est che guarda. C'è un caso in particolare che mi ha colpito. Ma anche nella stessa storia dei due afroamericani l'FBI andò a casa della moglie di uno dei due cortandogli le foto del marito con un'altra donna e questa donna si è suicidata. Quindi anche nell'Occidente, diciamo così, anche nei paesi buoni succedono cose brutte. È chiaro che non possiamo fare di tutta un erba un fascio, c'è sempre una gradazione della crudeltà. Però anche le conquiste che sono state fatte nel mondo cosiddetto dei buoni sono state conquiste che hanno sempre reso necessario un prezzo da pagare, un impegno oltre quello che era richiesto dalle gare. Anzi, in molti casi ci sono state rinunce alla partecipazione, ci sono state delle proteste clamorose, ci sono state delle cose che hanno portato alla ribalta un problema che altrimenti non si sarebbe mai conosciuto. Il caso delle due maratonete che hanno corso la maratona di nascosto negli anni 70, perché la scienza diceva che le donne non potevano correre la maratona, che rischiavano il distacco dell'utero o addirittura altri tipi di malattie e si è dimostrato ovviamente che non era vero. E per smentire questa cosa due donne si sono dovute scrivere di nascosto. La fortuna è stata che una delle due è stata avvicinata dal direttore di gara che la voleva buttare fuori, mal per lui che il fidanzato era un lanciatore di martello che correva insieme alla sua donna, l'ha fermato lui. Un fotografo, non è come oggi che ci sono i telefonini e si fotografa tutto, immartolò quella scena e quel giorno dopo era sulla prima pagina di tutti i giornali americani e questa cosa andò avanti, nessuno si ricorda il vincitore di quella maratona, quella cosa aprì un problema. Noi fino agli anni 80 alle Olimpiadi non c'era la maratona femminile, non c'erano i 10.000, non c'erano i 5.000, le donne correvano solo i 3.000 metri, anche nel nuoto c'erano distanze sfalsate, cioè questa cosa ha portato a un'eguaglianza anche sulle distanze e fra l'altro il gap fra i tempi sui 100 metri e quello sulla maratona è molto più vicino quello femminile rispetto a quello maschile nelle distanze più brevi. C'è addirittura la morfologia e la fisiologia permette alle donne di avvicinarsi maggiormente agli uomini nelle distanze più lunghe che in quelle più brevi. Erano delle ingiustizie palesi che venivano compiute nel mondo cosiddetto civile poco più di 50 anni fa. Un regime invece contemporaneo, quello turco, ha messo alla berlina per così dire un calciatore che io personalmente ricordo perché sono cresciuto negli anni 90 e che è stata una stella del mondiale del 2002. A Can Sucur, abbiamo le immagini, fu il capitano di quella nazionale turca che ritornò perché la Turchia aveva già raggiunto il podio nei decenni passati il terzo gradino del podio a Giappone e Corea del 2002. Per intenderci è il mondiale di Bayron Moreno, l'Italia uscì negli ottavi di finale proprio per mano della Corea che arrivò in semifinale sconfitta dalla Germania e andò in finale per il terzo posto. Ebbene che fa? Fa l'autista di Uber in America. Perché? Perché lui a un certo punto... Eroio nazionale. Eroio nazionale addirittura era il calciatore al quale tutti volevano bene perché chiaramente era il gol più rapido, era quello che poi arrivò quasi a eliminare il Brasile 10 secondi e poco più. 10 secondi e poco più e si presentò alle elezioni con il partito di Erdogan per un po' è stato da quella parte, poi è passato all'opposizione gli hanno arrestato il padre, gli hanno sequestrato tutti bene, gli hanno costretto a fuggire e ora campa di quello che ha una piccola libreria e guida un taxi di Uber a Washington e campa con uno stipendio modestissimo e però chi ha avuto modo di parlarci dice che in Turchia non può più tornare, addirittura è stato impedito ai telecronisti quando raccontano i precedenti del mondiale del 2002 di menzionare l'autore del gol. Cioè di Akhansugur non si parla più. Il prezzo del dissenso. Il prezzo del dissenso. Stiamo parlando di un paese che noi consideriamo alleato perché a noi ci serve per arginare gli immigrati, ci serve negli equilibri internazionali nei confronti della Russia, nel conflitto in Ucraina è un nostro alleato. Addirittura per ammettere la Svezia nella Nato, siccome la Turchia fa parte della Nato abbiamo accettato di consegnargli 13 dissidenti kurdi che erano rifugiati in Svezia che non hanno mai ammazzato nessuno, sono dissidenti politici e andranno a finire nelle carceri turche e non si sa bene che fine faranno perché là non sono certamente ai nostri livelli di democrazia però il mondo fa questi compromessi e accetta che accadano cose come queste perché non ho visto nessuna indignazione quando è uscito il caso di Akan Sukur che guidava un taxi lui aveva guadagnato così tanti soldi da poter campare di rendita a lui e le future 4-5 generazioni è costretto a lavorare, non fa niente di umiliante però non è neanche giusto, ha guadagnato dei soldi che gli siano stati requisiti mi ha colpito personalmente la storia di Sandor, stopper si direbbe un tempo si diceva così dell'Ungheria quella che raggiunse la finale dei mondiali contro la Germania non vinse un mondiale solo per puro caso, era la grande Ungheria insomma non c'è bisogno neanche ricordare Puskas e tutti gli altri bene Sandor innamorato con una donna fuori dal suo matrimonio il regime in quel momento era quello comunista tenta una fuga disperata in Italia, guarda caso però la polizia segreta lo prende e purtroppo la sua storia però si viene a sapere dopo la caduta del muro di Berlino si, lui fu una storia che addirittura la organizzarono questa cosa gli misero una pistola perché lui era di fatto rarruolato nell'esercio gli misero una pistola, gli dissero di portarsi la pistola la pistola fu il pretesto per arrestarlo al confine perché poi c'era già un'altra macchina che l'avrebbe dovuto portare a Torino sarebbe dovuto andare a giocare a Torino e lo portarono dentro un castello dove ci tenevano tutte le spie prigionieri lui capì quando lo portavano lì che non ci sarebbe stato nessun futuro i suoi compagni di nazionale Puskas e altri andarono a chiedere di, in qualche modo, di liberarlo loro pensavano che lo tenessero solo prigioniero e invece? e invece nel momento in cui parlavano e gli dicevano sì sì vediamo cosa si poteva fare l'avevano già impiccato e anche la sua compagna ha scoperto che era morto quando lei è uscita di carcere lei mi pare abbia avuto quattro anni perché in qualche modo poi ha ripudiato queste scelte il cantante di rara bellezza racconta lei il cantante di rara bellezza era una cosa di un matrimonio che non matrimonio era un'unione che ai tempi non poteva reggere immorale immorale chiaramente i regimi erano assolutamente illiberali anche per queste cose quindi si muore d'amore in questa fase il diritto all'amore il diritto all'amore chiaramente poi questa cosa è stata anche insabbiata dopo è riemersa quando è crollato il muro cioè quando è crollato il muro ne sono uscite tantissime anche delle storie ambientate nella Germania dell'est di doping devastante sono uscite dopo cioè sono rimaste nascoste perché chiaramente quello era un doping di stato si sapeva benissimo che era così le nazioni occidentali cosa hanno fatto? quando è crollato il muro hanno fatto a gara ad accaparrarsi i tecnici della Germania Est ce ne avevamo anche noi alcuni perché così sapevano come si faceva chiaramente erano bravi anche dal punto di vista tecnico ma la maggior parte delle vittorie della Germania Est ha vinto più medaglie d'oro alle Olimpiadi dell'Italia in tutta la sua storia è un paese di pochissimi abitanti ha avuto una vita molto breve dal dopoguerra la caduta del muro di Berlino vincevano qualunque cosa soprattutto in campo femminile dove il trucco con gli ormoni era più facile che in campo maschile ma si è visto che erano tutte benzine truccate si è arrivato al caso di una signora che ha preteso che ci sono ancora dei record mondiali ancora validi ce n'è uno della 4% che reca tre nomi e una X ha preteso che il suo nome fosse cancellato perché si vergogna di quella cosa anche se non ha colpe e anche se non è stata squalificata non vuole che il suo nome sia legato a quella cosa la storia che lì si racconta come emblematica di tutto è di una lanciatrice di peso che ha preso tanti ormoni mi pare, non ricordo bene ma credo 4-5 volte quelli di Ben Johnson da diventare un uomo che a un certo punto per salvarsi ha dovuto diventare un uomo perché altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta cioè sono cose che poi i parenti l'hanno ripudiata per questa scelta lei poi si è sposata con una notatrice che ha avuto gli stessi problemi cioè c'è stato un crimine che è andato verso le persone che ha lasciato degli strascichi devastanti e che in qualche modo si è scoperto perché queste persone hanno parlato sono andate al processo per chiedere danni hanno fatto in modo che i colpevoli in qualche modo pagassero pagassero le aziende farmaceutiche che avevano disperso questi medicinali a ogni livello ben sapendo a cosa servivano che erano medicinali che servivano per altro e che invece venivano prodotti in decine di quantità superiori allora abbiamo purtroppo dico purtroppo perché le racconterei tutte sono 30 ne abbiamo solo prese alcune ma ripeto è un invito alla lettura del prezzo da pagare di Stefano Tamburini sono storie di donne e uomini ribelli e quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili vi lascio soltanto come dire un indizio in più si parla addirittura del primo fotofinish della storia e del primo cartellino rosso del mondo del calcio questo solo per invitare alla lettura io devo ringraziare Stefano Tamburini per essere stato nostro ospite e complimenti intanto per il libro perché è davvero molto molto consigliabile grazie a voi buona lettura per chi vorrà allora tra poco non è finita evidentemente come sempre parliamo invece della ricerca della felicità effettivamente a livello nazionale la promozione della felicità non è diciamo all'ordine del giorno e un po' il nostro centro lo vuole anche riporre come focus di tutti gli attori che poi si occupano della salute dei ragazzi iscriviti al canale